Per completare la giunta mancano ancora sette assessori, il movimento rischia la frattura. Contrazione di 449 milioni di euro, difficoltà per le piccole imprese di manifattura, costruzioni e trasporti. Harry Italy minaccia di lasciare definitivamente Olbia a causa della decisione di Alitalia di volare in Costa Smeralda. Recuprate per caso delle fotografie del grande Bruno Costa, lavorate dagli studenti del liceo Siotto, hanno dato vita ad un'importante mostra fotografica. Per i trovati da Maurizio Medisi, prima edizione del nostro giornale, come sempre in diretta. In primo piano i problemi del Consiglio regionale. Mancano ancora infatti sette assessori per completare la giunta targata Solinas. Questa situazione sta creando agitazione all'interno della maggioranza. Vediamo i dettagli. Non si arrestano le tensioni in maggioranza all'interno del Consiglio regionale. Al momento la divisione interna di Sardegna 2020 è il motivo che sta creando problemi e ralentamenti per la chiusura definitiva del cerchio della giunta Solinas. Stefano Tunis, papabile per un assessorato, sta tenendo testa gli altri due consiglieri, Domenico Gallus e Pietro Moro, che potrebbero dare vita a un nuovo gruppo in Consiglio, insieme due consiglieri di Sardegna Civiche, Forza Paris, Roberto Caredda e Valerio De Giorgi. Ho dato la mia disponibilità da sempre, ha detto Tunis, per sostenere questa maggioranza e in qualunque forma mi venga richiesta. Intanto lunedì è attesa l'ufficializzazione dei gruppi consigliari, poi martedì in aula il tanto sospirato giuramento dei sette assessori ancora mancanti. Si prevede per Sardegna 2020 quello all'industria, per gli altri giochi sono fatti all'agricoltura andrà Daria Enzaina della Lega, Cultura e Spettacolo all'Udc con Andrea Bianca Reddu, agli affari generali alleghista Giorgio Todde e lavori pubblici Roberto Frongia o Pietrino Fois, da verificare dei riformatori e ancora è quasi sicura la delega all'urbanistica a Quirico Sanna del Pisdaz. Su Linas spera di affidare anche un incarico a Sardegna Civica e forze Paris a cui andrebbero i trasporti. La Guardia di Finanza di Olbia ha arrestato due giovani cagliaritani che trasportavano un etto di droga nella loro auto. I due che viaggiavano su un'Opel Corsa Bianca sono stati fermati dai militari ieri pomeriggio all'ingresso della statale 131 al termine di un breve inseguimento. Gli uomini delle Fiamme Gialle hanno chiesto entrambi, 34 anni e residenti a Sestu, i motivi della loro trasferta a Olbia. Non convinti del risposto, Vega e D2 hanno perquisito il veicolo. All'interno di una scorsa in un vano hanno scoperto un involucro contenente oltre 100 grammi di cocaina purissima. Nel corso delle perquisizioni domiciliari dei 34 anni eseguite dalla Guardia di Finanza di Cagliari, sono stati inoltre trovati 70 grammi di marijuana per i quali è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio, il fratello di quest'ultimo. A termine delle tali operazioni sono stati posti sotto sequestro l'auto, 3 cellulari e 300 euro in contanti. Arrestati, i due si trovano ora nel carcere di Nukis. Tra il 2009 e il 2017 in Sardegna gli investimenti pubblici in infrastrutture sono crollati del 35,1%, dato che preoccupa non poco. Gli investimenti pubblici in Sardegna dedicati alle infrastrutture sono crollati del 35,1%, registrando una contrazione di 449 milioni di euro. Per effetto di questo dato allarmante, nel 2018 il loro valore ha superato di poco gli 800 milioni di euro utilizzati per la costruzione, manutenzione, acquisto di edifici o altri beni, quali strade, porti, aeroporti e interventi nei centri abitati. Questa situazione sta mettendo in difficoltà le 23.410 piccole imprese di manifattura, costruzione e trasporti interessate allo sviluppo infrastrutturale, sia come utilizzatrici delle opere pubbliche, sia perché coinvolte nella loro costruzione e manutenzione, che danno lavoro a 64.340 persone. I dati sono stati resi pubblici dal rapporto La Cadutta, lo spredi di investimenti pubblici e infrastrutture. Questi dati confermano come le richieste delle imprese siano fondate sulla necessità di finanziare e realizzare le infrastrutture in tempi ragionevoli e certi, ha commentato Giacomo Meloni, presidente di Confartigianato edilizia Sardegna, perché si è perso troppo tempo e nessuno può pensare di imbalsamare l'isola e l'intero paese, ovvero bloccare tutto il sistema intermodale di trasporto, merce e persone, i collegamenti, i comporti e i aeroporti. Nell'isola la spesa per i beni e opere immobiliari è composta per circa due terzi, il 62%, da quella delle amministrazioni locali e regionali e per il restante 31,8% da quella delle amministrazioni centrali. Formaggi dell'Alta Marmilla in gara fra 11 giorni in uno dei siti archeologici meno conosciuti del territorio. Nel pomeriggio di martedì 23 aprile, quattro aziende che trasformano il latte in prodotto finito nel territorio si contenderanno il titolo dei migliori aromi in marmilla. Il titolo del primo contest di formaggi confezionati nella zona organizzata dal Comitato di San Salvatore di Figu, frazione di God No Snow, in occasione della tradizionale festa campestre il giorno dopo Pasquetta. Contest con una missione importante, accendere i riflettori anche sui formaggi di nicchia e farli apprezzare al pubblico e dunque ai consumatori, ha spiegato Simone Cocco, 36 anni, allevatore e veterinaio di Figu. Non solo pecorino romano, puntiamo sulle produzioni alternative. L'appuntamento è per le 15.30 nell'archeologica del Pozzo Sacco di San Salvatore e nelle campagne di Figu. Prima una riflessione su tecniche di lavorazione e problematiche del comparto, ma anche le proposte di modelli di sviluppo alternativo. Poi la degustazione con la gara dei formaggi e le premiazioni. Al primo contest dei formaggi della marmilla parteciperanno diverse aziende della zona. Continuità territoriale in crisi. Solinas va da Tonelli, Air Italy, verso l'addio. Vediamo. La continuità territoriale della Sardegna vacilla. Con la decisione di Air Italia di volare senza torno a conto economico, Air Italia potrebbe definitivamente abbandonare Olbia. All'orizzonte due continuità differenti. Modello, quello attualmente in vigore, è stato prolungato ancora per un anno, mentre a Cagliari e Alghero, quello nuovo, proposto dalla giunta Pigliaru a Olbia. Una novità è dietro l'angolo. Dal 17 aprile l'isola utilizzerà per la prima volta un sistema di collegamenti aerei a doppio binario, con la possibilità che la compagnia nei tre aeroporti potrebbe essere solo una, all'Italia. Air Italia, dopo la decisione della compagnia concorrente di volare in Costa Smeralda, senza compensazioni economiche, sta pensando di tornare sui propri passi. Perché se le cose dovessero rimanere in questo stato, tutte e due si spartirebbero i voli. Dal punto di vista economico, l'operazione, secondo Ritali, non riuscirebbe a decollare. Ha un senso volare senza interventi pubblici, avendo però l'esclusiva. Un altro è dover dividere in due il traffico passeggeri, soprattutto in inverno, quando i flussi sono decisamente più limitati. Da questo malasma nasce la richiesta della compagnia olbiese di un incontro con il neogovernatore Cristian Solinas. Se non si dovrebbe trovare una soluzione adeguata, la compagnia potrebbe decidere di rinunciare alla continuità, come ha fatto intendere. Un dietrofonont significerebbe salutare definitivamente Olbia. Oggi è in programma un vertice a Roma, una riunione della Regione Sardegna e il Ministro dei Trasporti, dove all'ordine del giorno non è inserito soltanto quello della continuità principale tra Roma e Milano, ma anche del piano Solinas, che prevede il ripristino della CT2, continuità territoriale I2 e la scadenza della Convenzione con la Tirrenia, ormai prossima. Stava percorrendo l'asse Emiliano di Cagliari a bordo della sua Polo, quando all'improvviso ha perso il controllo, andando a sbattere contro i guardali dal centro della carreggiata. Ora è ricoverato all'ospedale Marino, dove è stato trasportato in codice giallo per vie di alcune ferite. Il protagonista, a suo malgrado l'incidente, è avvenuto al chilometro 6,1 in direzione Poet, un 28enne cagliaritano. Sul posto, dopo l'allarme, sono intervenuti gli uomini della Polizia Municipale e i sanitari del 118. Mentre quei sultimi si sono occupati di soccorsi, i vigili hanno messo in sicurezza la strada e effettuato i rilievi di legge. A loro ora il compito di ricostruire l'esatta dinamica e le cause dell'incidente. Con l'investimento di 300.000 euro si procede con l'ampliamento e la sistemazione dell'intera area del nuovo cimitero. Serbagusa, Macomere, è stato infatti approvato il progetto esecutivo e definitivo per creare i servizi necessari, compresa la sistemazione della strada di accesso. Un'opera importante per completare quell'area con la realizzazione immediata di alti 250 loculi, in aggiunto i 300 esistenti realizzati nella prima tranche. La grada appalto sarà pubblicata i prossimi giorni. Oltre i tombini all'interno della nuova area cimiteriale saranno effettuati diversi interventi. Si provvederà in particolare adottare la struttura di servizi mancanti e indispensabili, come i camminamenti interni, i marciapiedi esterni e l'illuminazione. Nell'area di fronte all'ingresso invece saranno realizzati parcheggi con almeno 300 posti alta. All'ingresso dell'attuale strada di penetrazione agraria, che sarà allargata e elaborata e realizzata entro l'anno, un largo marciapiede, è prevista la realizzazione di una rotonda con un stile particolare che rimanda in murati e secco. Al centro del suo basamento sarà sistemata una grande croce. Sarà realizzato anche il cosiddetto giardino delle rimbembranze, dedicato a coloro che professano altre religioni. Era questa l'ultima notizia della prima parte del nostro giornale, adesso andiamo in pubblicità, poi subito dopo. Seconda parte del nostro giornale, una mostra fotografica con le immagini trovate per caso di Guido Costa. Grazie al lavoro degli studenti del liceo Siotto sono diventate una mostra che verrà inaugurata stasera alle 18.30 presso il Palazzo Reggio di Cagliari. Nel 2018 il liceo Siotto Pintor di Cagliari, in collaborazione con la società umanitaria Cineteca Sarda di Cagliari, ha elaborato un progetto di alternanza scuola-lavoro incentrato sul ritrovamento di una scatola in legno, contenente 63 fotografie sull'astra di vetro del fotografo Guido Costa. Il progetto prevede la realizzazione di una mostra fotografica. Come nasce questo progetto dedicato alla fotografia e a un grande della fotografia? È un progetto che nasce come progetto di alternanza scuola-lavoro. La Cineteca Sarda da anni cerca di lavorare dentro le scuole per promuovere la cultura cinematografica e fotografica. Con il liceo Siotto di Cagliari abbiamo elaborato un progetto che prevedeva il lavoro degli studenti sul fondo fotografico Costa che è depositato al liceo. Si tratta di 63 vetrini fotografici del grande fotografo Sardo. I ragazzi hanno studiato le foto, le hanno digitalizzate, hanno preparato le didascalee, hanno fatto la grafica della mostra. E appunto abbiamo finalizzato tutto questo lavoro alla realizzazione di una mostra che inauguriamo stasera alle 18.30 al Palazzo Reggio. e poi con i ragazzi abbiamo anche realizzato un video dedicato al fotografo interamente realizzato da loro, cioè loro ne hanno curato il montaggio e la fotografia. Però la Cineteca Sarda non da tutti è conosciuta, perché? Beh, il nostro lavoro è quotidiano, noi ci facciamo conoscere ogni giorno con il nostro lavoro. Devo dire la verità che facciamo un lavoro che sta molto dietro le quinte perché il nostro è un lavoro d'archivio. Poi con questo tipo di operazioni, quando facciamo le rassegne, promuoviamo il cinema sardo e promuoviamo i grandi autori della nostra cultura, la gente ci conosce e riconosce il nostro lavoro. Ci sono tante cose da scoprire del passato tramite la Cineteca Sarda o siamo arrivati a sapere ormai già tutto della Sardegna del passato? No, c'è tantissimo da scoprire. Anzi, nei prossimi mesi e nei prossimi anni ci saranno delle sorprese perché stiamo facendo ritrovamenti continui. L'anno scorso ne abbiamo fatto uno molto importante che ci ha consentito di fare il primo restauro digitale dei nostri laboratori. Era un filmato sull'autonomia regionale, sempre realizzato da Guiduccio Costa. Per cui abbiamo altri lavori che faremo scoprire e conoscere nei prossimi mesi. Per chi volesse conoscere al meglio la Cineteca Sarda? Può venire in Cineteca, via di Trieste 118, noi siamo aperti tutti i giorni e riceviamo tutti. Nel 2007, più o meno, quando sono arrivato qui per fare il bibliotecario, eravamo in un ufficetto che è chiamato Aula Bunker, perché ha delle inferriate la finestra. E vicino a quest'Aula Bunker c'è una sorta di ripostiglio. C'era questa scatola di lastre che riproducevano visioni della Sardegna in gran parte davanti a guerra. E poi, però, a un certo punto rimasero lì senza avere idea di che cosa si trattasse. Lavorare con le classi del Siotto, per questo progetto ambizioso, come è andata? È andata molto bene, perché i ragazzi hanno risposto all'invito di studiare queste fotografie, questo personaggio, il personaggio di Guido Costa, in modo molto entusiasta. Hanno seguito tutte le fasi di progettazione e anche di realizzazione dei progetti con un lavoro di gruppo. Sono stati divisi in vari gruppi, ogni gruppo si è occupato di una parte e poi tutto il lavoro è stato coordinato in modo che, ad essere un prodotto, un risultato finale coerente e, a mio parere, valido. Quello che emerge è proprio l'entusiasmo dei ragazzi nel fare qualcosa che rientra nell'attività didattica ma che allo stesso tempo è un fare, un lavoro pratico che li entusiasma e li coinvolge più forse dello stare a studiare sui libri, che è comunque utile perché abbiamo fatto anche quello. Abbiamo preso le riviste delle vie d'Italia, le abbiamo lette, abbiamo visto le fotografie inserite appunto nel contesto della rivista per cui l'uso dell'immagine fotografica per propagandare la Sardegna come prodotto turistico all'inizio del Novecento è stato interessante perché hanno fatto proprio i confronti con quella che invece è l'immagine turistica adesso. E' stato molto bello e con grande soddisfazione ho lavorato con questi ragazzi. Perché è importante supportare questo genere di progetti all'interno dell'istruzione scolastica? I progetti sono un qualcosa che se fatti con delle finalità didattiche sono importanti. Importanti e utili perché fanno vedere ai ragazzi come quello che studiano sui libri e poi trovano applicazione pratica. Questa è la cosa importante. Se un progetto ha questa valenza e queste finalità è un progetto valido. Io credo che il progetto sulle fotografie del Costa abbia tutti questi requisiti e quindi sia un progetto valido. Poi ovviamente sarà anche il pubblico che andrà a visitare la mostra delle nostre fotografie e che dirà se effettivamente è un lavoro fatto bene, un lavoro valido. Queste foto derivavano, queste stampe derivavano da delle lastre. E che queste lastre erano state, almeno nel 1981, esaminate da quello che si chiamava all'epoca gruppo archeologico. Un gruppo di studenti guidati, diciamo così, dalla professoressa Paglietti all'epoca che si occupava di fare foto di siti archeologici, prospezione di siti archeologici. Era un gruppo che aveva una funzionetta didattica e anche ovviamente sociali. In questa ricognizione c'era un inventario piuttosto dettagliato di quelli che erano le lastre. E questo inventario riportava anche alcuni particolari su delle lastre che io non solo non avevo, ma alcune era evidente che loro avevano visto gli originali perché facevano notazioni anche sullo stato e la tenuta del vetro. Per una volta non si è studiato di greco e latino, ma si è studiata la fotografia attraverso un grande della fotografia sarda, Guido Costa. Parliamo di questo progetto. Allora, il progetto a cui abbiamo partecipato è stato molto interessante perché abbiamo comunque fatto esperienza di abbiamo visto comunque una Sardegna come era appunto in tempi passati. Abbiamo toccato con mano come era la fotografia ai tempi di Guido Costa, quindi i vetrini, che è comunque una cosa molto importante perché viviamo in un mondo dove siamo totalmente legati a ciò che è digitale ed è importante comunque fare esperimento anche di questi elementi. Poi è proprio stato importante il confronto anche magari rispetto agli edifici. Prendiamo esempio di Cagliari. Numerose foto rappresentavano gli edifici che aveva fotografato Guido Costa. Noi siamo andati lì, abbiamo visto come si presentano adesso e secondo me comunque questa comparazione è fondamentale per comunque capire come è l'evoluzione delle persone, delle comunità, delle città. Perché secondo lei è importante inserire nei progetti delle scuole questo genere di iniziative? È importante perché comunque noi siamo il risultato di ciò che è capitato nella storia, il passato, quindi è importante per noi, è fondamentale comunque conoscere la storia, soprattutto anche magari per noi che siamo al liceo classico, che ci occupiamo fondamentalmente di greco e latino, ma non solo, chiaramente, è importante conoscere il passato. Lei ha la macchina fotografica? La fotografia è una mia grande passione, quindi quando ci si è presentata l'occasione di andare a fotografare gli edifici che magari aveva fotografato Costa è stata un'esperienza molto bella, molto costruttiva. sulla, diciamo così, parte superiore della scatola c'era una firma come se fosse una nota di possesso dove c'era scritto Guido Costa. Io per la mia cultura persona mi ricordavo che figlio dello scrittore, sassarese anche se è nato a Cagliari, Enrico Costa, era, si chiamava Guido ed era un insegnante in inglese. Per cui, come ho cercato, diciamo così, i confronti per capire, ho visto che faceva il fotografo. Già all'epoca c'erano, era stato messo in rete una parte dell'archivio suo che era disponibile sul sito dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico di Nuoro. Quindi confrontandomi con quello mi sono reso conto che erano delle lastre che non erano state riprodotte e che quindi non c'erano. Che Sardegna ha visto l'occhio di Costa? È una Sardegna interessante che non è solo una Sardegna ferma o immobile come qualcuno l'ha dipinta anche negli anni in cui lui è lavorato. È una Sardegna in attesa forse, è il caso di dire in attesa. Si vedono le fotografie della gente che partecipa alle feste, si vede il mondo contadino molto ben documentato in varie parti della Sardegna, le feste, poi però anche i grandi avvenimenti, l'inaugurazione della diga dell'Omodeo, poi anche una cosa molto interessante come documentazione, una vera documentazione, e gli interventi per la lotta antimalarica. Tutto ben documentato con grande, oserei dire, maestria. Sono dei documenti molto importanti della fotografia e anche della storia della Sardegna e le fotografie di Guido Costa. chiedo scusa. In più, c'è tutto il lavoro che lui ha fatto anche di documentazione di monumenti, di chiese, sempre ugualmente molto interessante, ma soprattutto questa documentazione del mondo contadino che io ritengo sia molto interessante, ben documentata, con delle fotografie molto interessanti. è tutto, grazie per l'attenzione, buonasera a tutti.